Gli esperti ci dicono che il cioccolato può anche far di marino. Per la bimba tante uova di Pasqua? Sì, adesso che è così piccola ha soltanto un ovetto. Adesso l'ultima corsa? Mi sembra che domani sia Pasqua. Mancano poche ore alla Pasqua, è corsa le uova da mangiare domani, ma contenendosi direte voi pensando alla linea. Controordine, secondo il neuroscienziato Will Clower, mangiare il cioccolato fondente 20 minuti prima e 5 minuti dopo i pasti farebbe diminuire l'appetito del 50%, altro che ingrassare il cacao, semmai, potrebbe far perdere peso. Ah sì? Non ci credo. Beh, questa è la novità. E siccome sono volosa, lei sta proprio rovinando. Potrà stupire, eppure la scienza lo dimostra. In un quadratino di cioccolato fondente al 70%, infatti, sono contenuti il 16% del fabbisogno giornaliero di fibre e una buona quantità di acidi grassi che stimolano gli ormoni della sazietà. La dieta al cioccolato. Mangiare piccole dosi di cioccolato fondente incrementa le performance sportive, allevia la stanchezza, migliora la concentrazione e l'umore e, contro ogni luogo comune, non fa neanche venire le carni perché contiene antibatterici naturali. Niente sensi di colpa domani, dunque, anzi, tutta salute, a patto che le uova siano fondenti. Invece di essere all'ingrasso, sarete attenti alla linea senza saperlo. Saremo a dieta domani. Vado a lasciarlo giù perché sennò muoio.